eccoci sono qui di nuovo per raccontarvi che è uscito questo mazzo di carte l'oracolo della leggerezza 44 carte sti cazzi 44 messaggi di leggerezza potentissimi che proprio quello che si prefiggono queste carte andare in sintesi lì dove magari le persone non vogliono andare che cos'è quella parte lì è la parte bambina quella che sta fuori controllo quella che gioca con il mondo io ho usato uso le carte da più di dieci anni ho iniziato con i tarocchi con tutta questa simbologia importantissima bellissima molto seria dei tarocchi sono carte per temerari non pensate che siano carte leggere proprio per questo i disegni che sono stati scelti sono dei disegni invece che collegano proprio la parte più leggera bambina disegnati dall'artista Adele Mimou con la sua leggerezza e la sua leggiatria ci porta a vedere e a trasformare questo potente messaggio in un qualcosa di molto leggero pescare questo messaggio e lasciare che lavori in te anche due giorni tre giorni starci sopra perché pescare e credere avere fiducia che in quel messaggio che quel messaggio anche se a volte è scomodo fastidioso probabilmente ti sta aiutando a mollare una parte molto pesante di te ho creato queste carte proprio con questo scopo di alleggerire le persone dagli è tutta alla prossima con lo stigazzi in poppa grazie a tutti grazie a tutti